Per una settimana che si è riuniti a Villa Panfili sugli stati generali ed ecco che si arriva alle conclusioni, come delegazione CISAL ma anche come confini abbiamo inviato dei documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche al Presidente del CNEL per dire che cosa? Per indicare quali sono le priorità, queste priorità sono stato oggetto anche degli interventi in entrambi gli organi e devo dire che finalmente si comincia a smuovere qualcosa per la scuola, per il Paese e per le famiglie italiane, il Premier Conte ha ricordato in conclusione degli stati generali che bisogna investire fortemente su scuole e istruzioni, il Parlamento italiano italiano si è presto a votare una risoluzione dove si impegna dal 10 al 20% delle somme destinate al recovery fund per la scuola, l'università e la ricerca e lo stesso Ministro Azzolina ha dichiarato che i soldi dell'Europa serviranno per lottare e eliminare le classi pollaio. Se tutto questo si tradurrà in realtà è responsabilità politica di chi ci amministra, quindi non più dei consulenti, non più dei sindacati, noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo indicato delle vie chiare, questa tra l'altro è una settimana molto importante perché in questa settimana il Parlamento si accingerà a chiudere in commissione bilancio gli ultimi emendamenti sul decreto rilancio e se il governo non interviene là deve per forza intervenire in un nuovo provvedimento, in un nuovo decreto legge. Dopodiché è una settimana decisiva anche per chi vuole aderire ai ricorsi per non essere escluso dai concorsi per il personale docente, perché? Perché gli atti amministrativi si impugnano entro 60 giorni e nonostante le domande si faranno a autunni inoltrati, i concorsi, le domande che si stanno facendo ora per alcune procedure, per quelle ordinarie, per quelle straordinarie ancora no, ma bisogna ricordare chi pensa di essere escluso, è molto importante. È anche una settimana decisiva per la mobilità, usciranno i movimenti sulla mobilità, quindi cosa dire? Pensare che comunque si facciano degli analisi, degli studi che possano orientare le scelte del governo per noi è una questione molto importante. Staremo lì a vigilare perché tutte le varie proposte dette e raccolte anche in un'opera di lobby in Europa, con le aste sindacati della scuola, dell'università della ricerca, portino a uno sviluppo dell'Europa in tema e all'ordine di una società più equa e solidale. Dobbiamo combattere la proprietà educativa, dobbiamo investire in un turismo, in un patrimonio culturale che ci porti infrastrutture sostenibili, dobbiamo iniziare la scuola in sicurezza.